o giovani amici di facebook torniamo qui a fare un po di unboxing qui su incauto unboxing ho avuto un periodo di pausa perché ho girato un po il mondo per lega nerdo tante novità comunque vi farò vedere nei prossimi video però oggi volevo fare un unboxing veramente al volo perché mi è arrivato l'ennesima camera ip camera di xiaomi e che si va a integrare un po con tutto quanto l'ecosistema mi home che vi ho già abbondantemente mostrato trovati link qui nel video e anche in descrizione vi ho fatto vedere l'ip camera base da 25 euro vi ho fatto vedere tutto quanto il loro sistema di luci ma soprattutto vi ho fatto vedere il loro bellissimo sistema di home automation e home security tutti questi accessori sensori di movimento sensori di apertura chiusura porta luci led lampade lampadine e camere si integrano dentro a mi home che è l'app dedicata e fanno parte appunto di questo ecosistema ho già ben due camere di quelle da 25 euro insomma economiche e qui dentro lo studio sono camere fisse però volevo provare anche questa camera che è molto più costosa sulla carta contate che solitamente queste camere qui di sorveglianza motorizzate sottolineo quindi si può muovere e la comandi tu da remoto pensate che figata è costano veramente moltissimo di solito cioè prodotti diciamo di marche conosciute stanno attorno ai 200 euro 250 insomma si fanno pagare molto questa di listino se non ricordo male stato nei 120 ma era in offerta lampo la settimana a 50 euro e l'ho comprata istantaneamente in questo momento la vedo ancora in offerta a 70 euro 69 90 una cosa del genere che è ancora un prezzone quindi se vi interessa una cosa del genere vi consiglio di prenderla perché ha delle potenzialità veramente molto interessanti vediamo un po le caratteristiche esiste in versione 720p e anche 1080p sono praticamente identiche cambiano unicamente la risoluzione della camera e una ventina di euro di differenza io ho preso la 720 perché secondo me potevo anche risparmiarmi quei 20 euro non è necessaria questa grandissima qualità video insomma bisogna più o meno capire cosa sta succedendo nella stanza ma non è che bisogna fare le super riprese 720 secondo me è sufficiente è ovvio che se la trovate a 5 euro differenza compratevi la 1080 360 autocruise per cui immagino che giri anche in automatico oltre che poterla comandare una apertura diciamo di visuale di 112 gradi night vision automatica come le altre ip camera che vi ho già mostrato due way audio cioè audio e quindi è possibile comunicare con chi si sta riprendendo perché la camera è provvista sia di un microfono che di una cassa molto figa sta cosa poi motion tracking con con varie impostazioni come le altre camere di xiaomi non c'è altro di interessante andiamo ad aprirla e vediamo cosa c'è dentro packaging minimal comunque ben fatto come sempre di xiaomi qui ci sono varie istruzioni niente di che io immagino anche senza guardare le istruzioni tra l'altro questa è l'edizione europea è in vendita su amazon.it trovate il link in descrizione non è la versione cinese e come vedete ha le diciamo le istruzioni in tutte le lingue chissà se c'è anche l'italiano esatto c'è anche l'italiano quindi per esempio istruzioni di montaggio scaricare la come utilizzare la videocamera molto figa sta cosa è la prima volta che vedo istruzioni anche in italiano in un prodotto xiaomi questo credo che sia proprio il primo prodotto europeo che compro di xiaomi europeo nel senso di distribuito ufficialmente in europa è tratto che vedo che si può montare anche a soffitto vediamo adesso come poi la tiriamo fuori va perché carina che è si muove qui adesso è fissa ma è sicuro che si muove sul retro c'è il lettore per la scheda microsd se come le altre ip camera e penso proprio di sì non è necessaria la schedina sd ma se la inserite lei registrerà vi permetterà di tornare niente nel tempo attraverso la per vedere un po ripreso oppure per esempio potrete dirgli di registrare gli ultimi 15 secondi ogni volta che vede un movimento in modo tale che avrete insomma ogni volta che qualcuno si muove nella stanza verrà ripreso questa è l'alimentazione il tasto di reset qui c'è questo diciamo incastro che serve per la piastra per attaccarla a soffitto come si vedeva nell'immagine di prima la piastra sarà qua immagino c'è poi l'alimentatore europeo fantastico ottimo quindi un classico alimentatore da smartphone per intenderci con usb e anche il cavo adesso la collego subito e poi esattamente qui c'è la piastra di cui vi parlavo questa si collega al soffitto e poi la incastrate semplicemente qui in questa maniera adesso ma non serve non la metterò al soffitto comunque non credo qui dentro che altro c'è addirittura vi danno le viti penso un po le viti per attaccare la piastra di cui vi ho appena parlato e non c'è nient'altro dentro la scatola la provo ad alimentarla e aggiungerla a mio ma ok collego l'alimentazione vediamo c'è un led qualcosa non vedo però vedo che si sta muovendo per cui deduco che insomma si ha un led qui davanti si è girata completamente parla in inglese questa e non in cinese come le altre che vi ho mostrato ora questa camera utilizza un altro a un'altra app ancora siamo io che sto installando in questo momento che sono molto curioso di vedere voglio sperare che poi compaia anche insieme alle altre in home in i home il mio ma si aprivede un po ok ok iniziamo aggiungiamo dom e poi ti chiede la password del wifi giustamente e poi come le altre camere ti mostro il codice qr che inquadrare con la camera ok ok avanti si sta collegando ora la camera al wifi grazie ai dati che avete inserito dentro all'app fondamentalmente questo passaggio con il core code serve a informare la camera della password del wifi locale esattamente ok molto bene ok perfetto sta collegando alla camera a che aggiornamento il film è molto bene sempre show me sempre sempre insomma mega aggiornato su queste cose ogni volta che compro un prodotto e lo stallo per la prima volta c'è sempre un bel aggiornamento il film è una cosa molto molto positiva che sta aggiornando firma figo che parla in inglese per una volta invece che in cinese sono ancora un po indeciso se è positivo no questa cosa del dell'app diversa spero veramente che la camera compaia anche dentro mio me non solamente dentro io ma che è quella che sto usando ora perché la vorrei vedere insieme a tutto il resto che o no e non qui da sola dentro io ok eccomi lì adesso molto scuro per cui non lo vedete ma ci sono vedete qui sono sono io e in più posso immagino con questo esatto girare la camera molto figo ah c'è un fine corsa un gira di 360 gradi giustamente direi in realtà non potrebbe però vado dalla parte opposta vediamo si si blocca lì e più posso direi alzarla esatto e abbassarla eh che figata ciao beh molto figa sta cosa ho solo il terrore che funzioni solo dentro questa app e non dentro mio questo cos'è inserire una microsd per il salvataggio a ok questo è la famosa timeline che vi di cui vi raccontavo prima quindi in pratica in pratica qui c'è una timeline con cui è possibile tornare indietro nel tempo se c'è se mettete una scheda microsd dentro che che registra il video molto figa sta cosa perché vi permette appunto di rivedere tutto quello che ha registrato la camera allora l'ultima cosa che voglio capire qui è tutto molto semplice in realtà è identico alle altre cose qui c'è la qualità sd e hd mettiamo in hd ecco fatto così passerà a 720 qui ci sono in capo a seconda con cui sto trasferendo qui ci sono varie opzioni addirittura tutto quanto in italiano guardate un po' molto bene videocamera on off nome della video della fotocamera la chiamiamo ln don camera per uniformarla a il resto salvataggio impostazioni fotocamera spia di stato si può questa spia che a accendere e spegnere vediamo si esatto è spenta protezione immagine per ruotare a 180 gradi nel caso l'attaccaste al soffitto luci e revisione notturna è l'auto diciamo infrarosso per la visione notturna si attiva in automatico quando capisce che è molto buio il fuso orario c'è il nostro fuso orario utc più uno molto bene modalità chiamata citofono questo sfrutta il microfono e la cassa interna versione del software abbiamo appena aggiornato quindi è sicuramente aggiornata poi impostazioni rilevamento motion detection con tre livelli di sensibilità esattamente come le altre camere la mettiamo passo altrimenti lo fa di continuo e l'avviso frequenza di avviso basso anche questo vi manda un messaggio quando vede un movimento protezione con pin non mi interessa stato schede sd nessuna scheda rilevata qui si potrà anche poi formattarle eccetera formazione di rete la wifi a cui si collega connettività eccellente molto figo anche qui con tutto quanto spiegato e i pacchetti addirittura che manda sul wifi le notifiche foto video includere foto video nell'avviso di attività attraverso il servizio cloud sicurizzato i questa è una mega figata cioè se non avete come nel mio caso perché non volete mettergliela e non vi serve inserire una scheda sd cosa fa xiaomi ogni volta che rileva un movimento salva gli ultimi 15 secondi sul cloud di xiaomi e potete quindi rivederli anche senza avere un sd interna semplicemente si collegherà a internet e vi fare vi mostrerà gli ultimi 15 secondi cosa molto molto bella si attiva da qui è già attiva di default e poi che altro c'è preferiti le varie camere modalità automatica addirittura questo serve per diciamo attivare il movimento automatico della camera in modo tale che diciamo faccia il date dei movimenti non sono inquadratura fissa ma si muova lentamente ancora le tutta la stanza possibile rotta di modalità automatica la modalità automatica per tutto il giorno ok praticamente si può impostare sia cosa fa quindi 360 oppure girare tutti i preferiti passare tra tutti i preferiti fermarsi su ognuno per 10 secondi ok si possono impostare quindi delle dei posti diciamo preferiti da inquadrare rimanere lì di 10 secondi poi muoversi in un altro diciamo posto preferito oppure in questo caso è impostata 360 e basta che direi che va benissimo e poi gli si può anche dire quando lo devi fare questa cosa tutto il giorno oppure solamente in certi orari e qui si possono impostare diversi orari lo lasciamo per tutto quanto il giorno vedete che adesso in questo momento lei si sta muovendo autonomamente piano piano di posto in posto a 360 gradi ed è insomma il vostro no guardiano diciamo così l'unico dubbio che mi rimane che purtroppo da quello che ho capito fino adesso essendo questo appunto come dicevo nell'introduzione l'unica camera che ho io europeo come distribuita in europa e anche l'unica che c'è qui dentro a i home e non mi home che è l'altra che l'altra app che uso e infatti aggiungendo le camere si trovano solamente le versioni europee delle camere distribuite da xiaomi e non ci sono le camere invece cinesi quindi un gran peccato perché a quanto pare non riesco ad avere tutto dentro a mi home ma sono obbligato utilizzare io solo per questa camera qua verifico il volo se dentro mi home magari fosse comparsa questa camera in automatico purtroppo no vedete dentro a mi home c'è solamente l n spy l n spy 2 che sono le ip camere da 25 euro economiche che vi ho già mostrato nell'altro video cinesi tra virgolette ma questa qui europea non c'è ho provato anche aggiungerla da qua ma effettivamente tra le varie camere possibili qui camera products questa camera qua non c'è c'è questa che ci assomiglia ma in realtà non la trova quindi brutta notizia da questo punto di vista spero che cambi perché vorrei che comparisse qui anche questa dome camera in ogni caso se avete unicamente intenzione di comprare una dome camera a 360 gradi che si possa muovere ottima questa che ha la sua app dedicata io non mi home si muove è telecomandabile a distanza sui attraverso internet o in rete locale ovviamente funziona più che bene vedete che si sta muovendo qui potete muoverla anche voi a mano molto figo e insomma costa molto poco rispetto alle concorrenti tra i 50 e 70 euro e quindi ancora una volta consiglio il prodotto xiaomi mi spiace molto che non si integra con il resto dei prodotti invece cinesi essendo appunto uno dei pochi distribuiti in europa quindi software in italiano garanzia europea ma purtroppo non si integra con gli altri prodotti cinesi vediamo se in futuro invece lo farà si piace i miei video le mie mini recensioni fate un bel like fate uno share abbonatevi al canale qui sotto mi raccomando e non dovessimo più vederci buon pomeriggio buonasera e buonanotte ciao ragazzi